Ciao ragazzi, bentornati in un altro video. Come vedete non è con la fotocamera, ma sono proprio con il telefono. Volevo farvi vedere l'ordine che mi è arrivato da Bio Emporio Natura. E niente, quindi praticamente è un video molto veloce per farvi vedere un po' cosa ho preso. Ho preso altre cose di Organic Shop, perché è un marchio che sapete mi sta veramente piacendo tanto. Sto provando un po' di cose e quindi ho voluto prendere altre tipologie di prodotto per testare un po' tutto quanto. Così poi vi darò anche delle recensioni un po' più complete. E niente, solito ordine su Bio Emporio Natura, che è questo qui. Vediamo se ce la faccio con una mano. È questo sito qua. Vi lascio giù nell'info box anche un codice sconto del 15%. Io ne ho usufruito insomma, ho avuto un pochino di sconto. E niente ragazze, vi faccio vedere quello che ho preso. Giro la videocamera che così siamo più comodi. Eccoci qua ragazze. Allora, questo qui è l'ordine. E ora pesco le cose a caso, così ve le faccio vedere. I prezzi ve le metto giù nell'info box. Allora, ho preso questo scrub per il corpo. Io ne ho già provati due e mi sono piaciuti tantissimo. Quindi ne ho ripresi altri due. Questo qui è con il bambù e sale. Questo qui è lo scrub. Vi faccio vedere anche l'inci. Eccolo qua. Sono 250 ml e quindi, niente, lo proveremo. Poi ho preso un altro scrub. Questa volta al caffè. Caffè e zucchero. L'inci di questo. Eccolo qui. Sempre 250 ml. Poi, andiamo avanti. Ho preso uno scrub per i piedi. Ora, io non so che differenza ci sia con gli altri scrub. Comunque, ho voluto prenderlo, insomma. Questo qui sta perdendo un po' di olietti. Cavolo. Ah! Ok, ce la posso fare ragazzi. Sono un po' impedita con una mano sola. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Ok. Eccolo qui. E questo qui è con i fiori di lotto e zucchero. Poi, cos'altro ho preso? Sempre di Organic Shop. Ho preso dei sali da bagno. Io ne avevo provato un'altra versione, ma questa qua mi ispirava molto di più. Vaniglia e latte. E quindi ho preso questa perfumazione qua, che tra l'altro ho già usato. È davvero una cosa buonissima. E se riesco a recuperarlo, eccolo qui. Questo qua è l'inci. Perfetto. Poi, vediamo se c'è qualcos'altro. Sì, di Organic Shop ho preso questo qui, che è un balsamo per i capelli. Io sto utilizzando della stessa linea lo shampoo. Mi sta piacendo tantissimo. Sia per l'odore che per l'effetto proprio. E quindi ho voluto prendere anche il balsamo. Questo qui. E questo qua è l'inci. E questo è da 280 ml. Poi, ho preso questo boccione di bagnoschiuma. Questo qui è con orchidea e qualcos'altro che non capisco. Antistress. E niente, vi faccio vedere l'inci anche di questo. Questo qui sono 500 ml, esatto. Infatti è veramente una boccettona gigante. Questo qui è l'inci. Eccolo qua. Poi, poi. Altro bagnoschiuma che ho preso è questo qui. È la macadamia e avocado. Che dovrebbe essere un bagnoschiuma nutriente. Questo qui è da 280 ml. Eccolo qua. Poi, poi. Altro bagnoschiuma è questo qui. Ovviamente non potevo non mettere un prodotto che contenesse rosa. Eccolo qui. Ha la rosa romantico. E questo qui è il linci. Perfetto. Con Organic Shop mi sembra di aver finito, esatto. Poi ho preso altri prodotti di questa marca qua. Sempre molto economica. Che si chiama Oma Gertrude o Gertrude o non lo so come si dice. Comunque, questa marca qui. Questo è un bagnoschiuma alla pesca e vaniglia. E sono da, ora ve lo dico subito, 500 ml. Poi ho preso anche uno shampoo. Teoricamente è la camomilla, ma io il tedesco non lo capisco. Camomilla mi sembra. E è sempre 500 ml. Ah, non mi ha fatto vedere l'inci. Allora, questo qui. Eccolo qui è lo shampoo. E questo qui è il bagnoschiuma. Perfetto. Poi, sempre di questa marca ho preso anche una crema per i piedi. Che dovrebbe essere all'eucalipto. Esatto. E 75 ml. Questo qui è linci. Perfetto. Poi, poi, come ultime due cose. Lo struccante occhi di Avril, che io ho provato praticamente un sample, che mi ha mandato Ale di Green Beauty and Life. Mi è piaciuto, mi è piaciuto, sì, come sto parlando. Mi è piaciuto tantissimo e quindi ho voluto prendere la full size. 200 ml e questo qui è linci. Perfetto. Ultima cosa è un'acqua micellare, che mi ispira tantissimo, della Centifolia. Non ho mai provato niente di questo marchio, però mi ispira tanto questa qua. Sono 500 ml di acqua micellare, pagata intorno ai 7 euro, se non sbaglio. Vediamo se trovo anche linci, ragazze. Qua. Eccolo qui. E poi mi hanno inviato dei campioncini, che ora recupero, perché io li ho buttati qua giù. Allora, uno è questo qui, che è un trattamento per i capelli. Poi, sempre un po' rionatura, il latte detergente alla violetta equilibrante. Mi avvicino. Eccolo. Poi, poi, sapone di un tempo, shampoo nutriente condizionante. Questa l'ho già aperta, perché l'ho provata ieri con delle mie amiche. La crema mirtillosa di Neve Cosmetics, che secondo me sa di tutto tranne che di mirtillo. Buona la profumazione, ma non ci sento assolutamente il mirtillo. E niente, questo qui è il bigliettino da visita, ecco, della mia profumeria. Il codice we love emporio è quello che serve per avere il 15% di sconto, quindi voi alla fine del carrello, c'è proprio la sezione codice sconto, o non mi ricordo, codice promozionale forse. Inserite questo e vi applica il 15% di sconto. Io ne ho approfittato e ho avuto circa un 7 euro di sconto. E basta ragazzi. Allora, questo qua è tutto. Non mi rigiro di nuovo alla telecamera. Vi saluto, fatemi sapere se avete già provato qualcosa, io sicuramente vi farò sapere un po' come mi ci trovo. Ciao ragazze!